ciao a tutti bacioni enormi dalla vostra nica allora altro video disegno con voi un po forse che non ve lo mettevamo non mi ricordo talmente tanti video che poi divento matta già lo sono allora è appunto come dice un altro disegno con voi non vi dico cosa disegnerò adesso non so neanche se lo scriveremo il titolo se lo vedete nel titolo non lo so fa niente comunque niente andiamo col video iniziamo a disegnare isegnare 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 è e è è Grazie a tutti. 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 Abbiate capito. È un leone un po' particolare, sì. Lo so, con le foglie in faccia così, non lo so. L'ho trovato, ho detto, devo riprodurlo, devo rifarlo sul foglio perché, non lo so, mi ha colpito, mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Allora ho detto, lo faccio, lo faccio e ditemi voi nei commenti, ma, come è uscito, e spero che vi piaccia questo disegno con voi, un altro della vostra Nica, fatemi sapere nei commenti. Ciao, 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 ciao.